Signore e signori, Enzo Tortola, Pippo Baudo, finalmente insieme. Sì, per nove eccezionali serate politiche, tu la capisci Tribuna Politica? Ma io la vedo, ma la capisco poco come il resto penso dei telespettatori. Rete 4 vuole fare qualcosa di nuovo e di diverso per le prossime elezioni, chissà quanti di voi hanno in mente una domanda, ma una domanda di che tipo? Dolenta, irriverente, interessata, polemica. Da fare a chi? A Berlinguerra, Craxi, Demita, ai capi dei nove partiti italiani? Bene, questa domanda potrete farla, perché Rete 4 vi metterà direttamente in contatto nel corso di questi nove spettacoli che trasmetteremo dal Teatro Eliseo di Roma, proprio con i big della politica italiana. Come si fa a partecipare? Per fare questo basterà prendere una cartolina postale, mettere il vostro nome, cognome, età, professione, indirizzo, il vostro numero telefonico e poi dire ho qualcosa da dire all'onorevole e a chi volete voi, come diceva prima Enzo, un leader della politica italiana che sarà sottoposto alle vostre domande. Direttamente in un faccia a faccia nel corso di uno spettacolo assolutamente diverso, per la prima volta politica e spettacolo. 200, 200 telespettatori verranno alternativamente al Teatro Eliseo di Roma, nostri ospiti appunto e noi faremo da mediatori, più dalla parte di chi? Del pubblico, della gente, di Italia parla, arrivederci.